. ATP, i risultati della prima giornata a Kingdue Shenzhen. . A Kingdue, torneo in cui l'austriaco Dominic Thiem è testa di serie numero 1, si è conclusa oggi la prima giornata di tennis. 4 Gli incontri in programma, con il giapponese Iwiki Sujita, numero 5 del setting, subito in campo. . 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 E' stato infatti sconfitto in due set, con lo score di 7-6-6-4, dal più quotato francese Jeremy Shardy. Al secondo turno l'israeliano Dudy Sela, vincitore in due set contro l'australiano Mattè Veblen, e il belga Steve Darcis, ok contro la Vidkar cinese Zezang. . Domani esordio per le teste di Serie Alexander Dolgopolov, Viktor Troiki e Joao Sousa, in un tabellone presidiato dall'alto dal tedesco Sascha Verev, dal basso dal belga David Goffin. Presente anche l'italiano Paolo Lorenzi, numero 4 del seding, che godrà di un baia al primo turno, per affrontare poi il vincente della sfida tra il brasiliano Rogerio Dutrasilva e la Vidkar cinese Zizenzang. . .